Queste sono le vostre versioni Fulvio Francesco Ottavio Michela Marianna Marco Doris Dario Andrea e Fabio Allora, cominciamo da Fulvio Molto luminosa Abbiamo un'occhiata anche all'istogramma ma va abbastanza bene Abbiamo anche la paletta delle info Abbiamo tutto Abbiamo ombra, abbiamo luce È un tendente un po' al rosso Va benissimo Avevo richiesto un tramonto L'unico dubbio è un po' negli alberi ma assolutamente bene Francesco ha preferito una via insieme un po' più neutra nelle zone neutre potete vedere ad esempio tutte le magliette bianche sono sicuramente più bianche però al contempo ha imposto degli aloni rossi che secondo me funzionano molto e una variazione di colore maggiore ne parliamo tra un momento della variazione di colore Ottavio 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 manca di un'ombra e basta vedere l'istogramma per capirlo proviamo anche a mettere un livello di soglia che abbiamo usato prima lo portiamo ok a 22 questo è quello che succede non c'è nessun punto compreso tra 0 e e 22 bastava proviamoci mettere una curva un livello di regolazione curve anche in composito per il momento per fare una cosa veloce poteva essere accettabile sicuramente migliore risultato e aumenta un po' il contrasto Michela molto molto rossa ma secondo me va benissimo vediamo la differenza tra Michela e Francesco per renderci conto di che cosa sto parlando questa invece è tra Michela e Fulvio ma la versione di Michela mi piace sicuramente Marianna la versione di Marianna è un po' buia e vediamo che gli alberi come c'è questa è tutta un'ombra gigante andiamo a vedere sempre con soglia che oggi è particolarmente utile ok e sotto il 10 questo è quello che succede troppo decisamente troppo troppe ombre e per quanto riguarda invece il colore manca forse un po' di giallo un po' più di giallo avrebbe aiutato Marco ha una luminosità un contrasto notevole mi piace molto per quanto riguarda i colori credo abbia preso una via simile a quella di Fulvio ma sicuramente meno gialla però guardate la differenza nel contrasto questo è Marco rispetto a Francesco vedete quanto più dettaglio si può trovare questa è la versione di Doris la versione di Doris mi piace ma penso abbia un solo difetto in questo verde qui perché è un verde assolutamente in alcune zone innaturale cioè la B in questo caso è la metà rispetto alla A in valore assoluto mentre dovrebbe essere compresa tra 1,5 e 2,5 volte naturalmente in casi di tramonto di illuminazione particolari sono ammesse delle licenze ma qui le licenze sono al contrario nel senso se c'è più giallo nell'illuminazione scegliere di togliere ancora di più il giallo può essere fonte di disturbo vediamo rispetto ad esempio a Marco vedete quanto quanto cambia questa è la versione di Dario la versione di Dario è un po' gialla però mi piace devo essere sincero soprattutto il contrasto proviamo a vedere il contrasto rispetto alla versione di Marco poi parliamo di queste due il problema per quanto mi riguarda è la variazione di colore in un'immagine al tramonto o comunque in un'immagine in cui l'illuminazione è tra virgolette scorretta nel senso è percepita anche dall'occhio in quel modo è desiderabile per cui dobbiamo preferire una versione come questa di Marco in cui vediamo anche dei rossi e dei blu abbastanza forti una versione ad esempio come quella di Dario dove è tutto un po' stemperato nel giallo questa è una scelta interpretativa che lascio a voi personalmente penso di preferire la versione di Marco questa è la versione di Andrea molto buona molto più vediamo rispetto a Marco molto più vedete i colori sono leggermente diversi ma il contrasto cambia tantissimo scegliete voi quale secondo voi può essere il contrasto migliore guardate come cambia questa persona qui tra Andrea e Marco ok e infine Fabio allora il problema della versione di Fabio è che credo almeno a mio avviso ha spinto un po' troppo sulla regione più luminosa questo è Fabio e questo è Marco l'aumento del contrasto è fatto diciamo a senso unico nel senso che Fabio probabilmente ha aumentato il contrasto aumentando di molto le luci che è sicuramente un modo efficiente per aumentare il contrasto però non è compatibile con l'esercizio richiesto perché ad esempio basta guardare questo braccio che dovrebbe essere in ombra come infatti è nella versione di Marco o la schiena di queste due persone dovrebbero essere due ombre evidenti invece nell'immagine di Fabio diventano quasi illuminate a giorno quanto hanno luminosità 66 dunque mi piacerebbe provare la versione di Marco con i colori di Michela e teniamo da parte Doris per motivi tecnici eliminiamo le altre per il momento ok portiamo l'immagine in lab dove possiamo muoverci un po' più agevolmente dunque questa è la versione di Marco questi sono i colori ops questi sono i colori di Michela Marco con i colori di Michela e a questo punto proviamo una delle applicazioni abbastanza classiche del Blendif ad inserire anche se abbiamo detto sono errati ma abbastanza interessante come esercizio tecnico a tenere solo i verdi cioè il colore degli alberi dell'immagine di Doris doppio clic sul livello di Doris dell'immagine di Doris e a questo punto faccio vedere prima i canali per comodità luminosità a e b luminosità a e b andiamo a vedere il livello sottostante luminosità a e b vediamo nella vedete cosa succede ovviamente la è più scura perché il verde è più intenso in quell'area quindi doppio clic quello che mi interessa è ovviamente il canale della A dove i verdi sono presenti e dirgli visualizza il livello dell'immagine di Doris se in questo livello sono presenti dei verdi in questo modo vedete sto rimuovendo ok sto rimuovendo tutti i rossi gialli eccetera rivelando quelli sottostanti di Michela ok e qui mi fermo vado a fare una leggera sfumatura ed ok prima e dopo prima e dopo colpiscono l'immagine di Doris in questo momento colpisce anche altre aree ad esempio questa parte di questa maglia e questo sfondo perché non abbiamo ancora toccato il canale della B questi sono dei blu per cui sappiamo anche che questi alberi sono composti da gialli per cui andiamo a rimuovere in questo modo questi blu ecco fatto ok prima e dopo siamo andati a inserire solo il verde degli alberi di Doris 50% se vogliamo ma non è necessario e con questa immagine abbiamo fatto assolutamente quello che volevamo un complimento a tutti quelli che hanno partecipato a questa immagine che non era proprio semplice qualsiasi dubbio sul blendif scrivete nei commenti perché posso fare quanti video volete su questo argomento sicuramente i prossimi saranno un po' più pratici perché la teoria l'abbiamo fatta in questo video vi invito a partecipare alla prossima immagine che è un bianco e nero della città di Cobb e ci vediamo la settimana prossima ciao